Non so se ve ne siete mai accorti, quando correte le ripetute forti alla fine diventate belli cattivi, qualsiasi roba vi potrebbe fare impazzire e a me la gente che cammina in prima mi fa diventare matto. Come sicuramente saprete se siete iscritti al canale da almeno sei mesi, ossia per intenderci dalla fine del primo lockdown, uno degli accordi di questo canale prevede che il dottor Sofientini si occupi in esclusiva di quello che riguarda l'allenamento e che io faccia la stessa cosa per ciò che concerne la tecnologia. Mentre per gli altri argomenti è sicuramente tutto negoziabile, sapendo comunque che l'argomento core del canale è ovviamente quello delle scarpe. Detto ciò, oggi avrei veramente tante cose da dire su questo argomento, come correre 10 km in meno di 40 minuti, però gli accordi sono accordi, preferisco rispettare le regole del gioco. Se comunque dovessi dare un piccolo consiglio, suggerirei di seguire un metodo di allenamento ben preciso, fidatevi di chi vi allena e rispettate quello che la tabella vi suggerisce di fare durante la settimana. E se non avete a disposizione nessuna tabella, sicuramente ci sono tantissimi libri che vi spiegano come correre i 10 km sotto i 40 minuti, vi allego alcuni di quelli suggeriti, sappiate che la bibliografia di The Running Pit ne descrive altri e sul sito stesso troverete anche diverse recensioni di questi libri. Il mio suggerimento per il runner evoluto, soprattutto che abbia dimestichezza con l'inglese, è quello di leggere Science of Running di Steve Magnus, che racconta in super dettaglio come migliorare tutte le distanze, sappiate che comunque è abbastanza complicato, quindi consiglio la lettura solamente a chi è davvero un appassionato di corsa e di fisiologia della corsa stessa. Prima di lasciare la parola ad Andrea, sappiate che non essendoci gare nelle prossime settimane, il mio consiglio resta proprio quello di focalizzarsi sui 10 km, distanza che poi vi consentirà, probabilmente in primavera, di migliorare anche sulla maratona. Vediamo cosa ci racconta Andrea dal campo di Garbagnate, guardate il video fino in fondo perché Andrea vi spiegherà il suo segreto, in particolar modo l'allenamento killer che gli ha consentito di migliorare significativamente nel corso degli ultimi anni. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ciao Max, sì, tutto a posto? Siamo già arrivati alla terza puntata del come correre i 10 km ad una certa velocità, oggi parleremo di come farlo in 40 minuti. Cosa ne dici Andrea? Ciao Max, ciao a tutti, intanto magari faremo poi dei video intermezzo perché in effetti un salto da 50-40 minuti adesso è un bel salto, però siamo pronti oggi per darvi qualche altra idea di allenamento. Quali sono secondo te i tre consigli che potresti dare a chi magari già corre in 43-44 minuti e vorrebbe scendere sotto i 40? Allora, intanto una buona programmazione degli allenamenti, non inventarsi niente e una progressione degli allenamenti. Questo qua è il primo consiglio, anzi no, programmazione, progressione e magari un aumento dei chilometri che a me piace sempre tanto. Parliamo per esempio dell'aumento dei chilometri, come lo faresti? Immagina che una persona che corre in 44-43, corra già a 50-60 km, cosa gli faresti fare? Allora, il problema non sono i chilometri settimanali in sé, sono i chilometri di ogni seduta. Io divento matto quando vedo le uscite di 8 chilometri, più che altro perché se avete poco tempo per carità van bene 8 chilometri, piuttosto che gniele me piuttosto. Se non avete tempo, dicevo, perché avete lavoro, avete altri impegni improrogabili, 8 chilometri van bene. Però se potete, quelle uscite devono essere trasformate almeno in 10, meglio 12 o 14 chilometri. Magari ci si arriva anche lì con una progressione, quindi le prime settimane passeremo a 10 chilometri, dopo 3 settimane potremo passare già a 12 o 14 chilometri. È stata la stessa cosa che ho fatto io per assurdo, le mie uscite erano sempre di 10 chilometri. Piano piano le ho portate almeno a 16 chilometri, adesso faccio sempre 80 minuti di corsa lenta. Quindi ci vuole solamente un po' di adattamento, sicuramente questo sarà già un accorgimento che vi premierà nel miglioramento in generale. E quindi quanto tempo le persone dovrebbero dedicare per arrivare a correre in 40 minuti a settimana? Quello dipende, io ero arrivato a farlo in 3-4 uscite alla settimana, ci sono delle persone che magari non ci arriveranno mai. Quindi diciamo che comunque l'idea è che se voglio migliorare un po' di aumento di chilometri lo devo mettere, questa è l'idea di fondo. Quindi se mi alleno 5 ore alla settimana, per assurdo aggiungerci un'altra ora di allenamento negli altri allenamenti, quindi magari 10 minuti per ogni allenamento è già buona cosa. Invece come imposteresti la settimana? Guarda, intanto in questo caso gli allenamenti fondamentali sono sempre quello che noi in Italia chiamiamo il medio, che può essere sostituito anche da dei fartlek o variazioni di ritmo con dei recuperi svelti. E l'altro allenamento che può essere, se ho fatto fartlek o medio, delle ripetute che a mi piacciono lunghe, quindi dai 2.000 ai 3.000 metri, a ritmo gara un pochino più forti, con recupero passivo o in jogging. E la domenica suggerisci un lungo, quanti chilometri e ogni quanto? Abbiamo le due scelte, o fare un medio più lungo, se siamo a fine preparazione, tra virgolette, che poi anche lì c'è da discuterne, quindi un 16-18 chilometri abbastanza svelti, oppure un lungo, quello sicuramente, anche lì 18-20-25 chilometri. Secondo te la preparazione di quante settimane dovrebbe essere? Diciamo che non ci si inventa mai nulla, se arriviamo da una preparazione mezza maratona a maratona secondo me è meglio, perché comunque il volume ce l'abbiamo, dobbiamo solamente finalizzare. Se arriviamo da invece dei 5 chilometri bisogna allungare un pochino, quindi avremo bisogno almeno di due mesetti per assimilare i lavori lunghi e i medi più lunghi e comunque allenamenti più voluminosi. Se invece abbiamo appena iniziato a correre, comunque per chiudere una 10 chilometri ci vuole poco, per chiudere forte una 10 chilometri invece ci vogliono almeno 3-4 mesi di preparazione intensa. Max è più distratto di me oggi, non ho capito cosa stai guardando. A livello di recupero tra un allenamento e l'altro, qua stiamo già parlando di atleti comunque evoluti, cosa dici? 40 minuti è già un bello step, il 39-59 è un sogno quasi come le 2 ore 59 in maratona, quindi stiamo parlando già di un ottimo livello. il recupero, se intendi mangiare, maniate, state sempre controllati con proteine, carboidrati e grassi buoni, se no, se intendi come recupero di allenamenti, tra un lavoro e un altro metterci sempre quella corsa lenta che vi dicevo, che sarà sempre più lunga, dai 10-12-14 chilometri. Un famoso test, un famoso allenamento che fai frequentemente, quello dei 3000, ce lo puoi raccontare per chi corre 40 minuti, probabilmente è un buon allenamento. Sì, diciamo che è una grande, è una grossa mazzata in testa, sono, beh, il test non me lo sono inventato io, l'ho odiato all'inizio, adesso invece ne sono molto affezionato, lo usavo nel mio coach, ma lo usano anche in tanti, è il 3x3000 con recupero 240 da fermo a ritmo del 10.000 con poi un 1000 finale, che poi il vero test è quel 1000 finale che dovremmo fare a bomba e a vedere se riusciamo a farlo più forte del ritmo che abbiamo ottenuto sui 3000 e di quanto, per dire, faccio un esempio, se dovessimo correre a 359 i 3000 mi aspetto un 350 al 1000 finale, per dire, se mi sono allenato bene. Questo è un grosso test che non è comunque predittivo se non abbiamo fatto dei buoni medi, quindi da 12-14 km per dire a 4,15-4,20. Come fai a capire da questo test se riuscirai poi a correre i 10 km in 40 minuti? Te l'ho detto, se riusco a fare i 3000 in 359 e l'ultimo 1350 e nel periodo di preparazione se sono riuscito a fare 12-14 km a 4,15 di problemi in gara non ne dovrei avere, così il test è abbastanza affidabile. È ovvio che qualcuno che riesce a fare magari 3x3000 a 358 ma fa fatica a tenermi 4,15 su un medio da 10-14 km, qualche dubbio ce l'avrei. Ok, 2 minuti e 40 da fermo come li gestisci? Pregando prima della prossima ripetuta. No, guarda, è una roba strana che se volete provatela in inverno anche con meno 15 gradi, 2 minuti e 40 da fermo post ripetuta sui 3000 fate di tutto tranne che raffreddarvi. Quindi con qualcuno ho provato a modificarlo con 3 minuti di jogging, ma jogging davvero blandissimo, quasi corsetta sul posto, tanto per non raffreddarsi, ma davvero in 2 minuti e 40 l'ho testato anche su me stesso in pantaloncini corti, non ti raffreddi praticamente. E a livello di scarico pre-gara cosa dici per questi atleti amatori? Guarda, lo scarico pre-gara sta diventando secondo me per tutte le gare l'ultima settimana di un cazzeggio davvero soft con un lavoretto da 30-40 minuti che sia un fartle, che siano delle ripetute lunghe a ritmo gara. Guarda, è davvero un lento scaricare e quindi diminuire i chilometri fino al giorno della gara. E secondo te a livello di educazione fisica vale la pena fare delle camminate oppure no? Già che mi fai questa domanda mentre sono lontani i ragazzi vuol dire che ho imparato. Guarda, mi dispiace perché hanno la possibilità di usare la pista, potrebbero uscire dei nuovi campioncini. Ho anche una mezza idea da sviluppare sull'utilizzo della pista per le scuole il sabato. però qua la stiamo sfruttando davvero male, glielo ho detto prima a Max, sembrava The Walking Dead qua. E invece, ultima domanda, cosa ne pensi di chi cammina sulla prima corsia mentre tu stai facendo il 3.000 a 3 al chilometro? Il problema grosso è quando faccio, non so se ve ne siete mai accorti, quando correte le ripetute forti, alla fine diventate belli cattivi, qualsiasi roba vi potrebbe fare impazzire e a me la gente che cammina in prima mi fa diventare matto. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima! Dimenticavo di dirvi che io sono i massi, vi suggerisco di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi episodi sul canale. Abbiamo già sviluppato un calendario editoriale fino a fine anno, ci saranno in effetti una tonnellata di recensioni di scarpe, non soltanto le sette di cui abbiamo già fatto la preview, ma anche altre cinque di Nike, Asics e Soconi, che il solito amico di Instagram ci ha chiesto di recensire. So che questo è un momento difficile per tutti, ma il mio consiglio resta sempre il solito, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima!